Il Consiglio Comunale di Batipaia ha approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio del 2017, certificata nei numeri presentati dall'assessore Maria Catarozzo in apertura di Assise Civica ieri la riduzione del disavanzo già annunciata ed espressa in una delibera con il passaggio da 17 a 9 milioni di euro. Un punto importante per l'amministrazione retta dalla Sindaca Cecilia Francese, ma non mancano remore rispetto alle ricadute fiscali sui servizi alla cittadinanza, espresse dai consiglieri Vicinanza, da Campora e Mirra. Assenti ieri Roberto Cappuccio, uscito recentemente dalla maggioranza, e Gerardo Motta.